E' iniziata la partita e quanto è dura, stessa sfida, fa' attenzione anche tu che non mi controllo più Taurus, un altro Aspetta, allora, procediamo con ordine Io non c'ho un cavolo, quindi continuo ad aprire tanto Faccio anche il saltino con la sedia Attenzione, penso sia un allenatore, ma penso eh Come penso? No, 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 è un Pokémon E' una V e forse Full Art E' normale Tornados Magari Alternative Magari Alternative Vediamo 185 Non è fuori serie Non è fuori serie Però mi pare Non è detto che le Full Art No, Alternativa Alternativa Alternativa? Boom! Tornados Alternativo Ho fatto volare Carl Robin Abel Wow, bello Bellissimo Non è ancora trovato questo qua E' finalmente abbiamo trovato un'altra alternativa Nooo Me l'ho detto Aumenteremo le nostre spizzi Allora, allora fermo Fermo Vedo blu Io Credo Sarà un VMAX sicuro No, è un VMAX Cos'è? 200 Fuori serie Lo spizzi Spizzi Ragioniere, lo spizzi Debolezza acciaio Ho chiamato i miei amici E' arrivato Bravo Grande rivelmente Wow, no, c'è il cielo Quindi E' acqua Ehm Calyrex E' Calyrex o'Erapidash di Galar Potrebbe essere Calyrex Full Alternative Sulla base di cosa mi dici che ho un'Erapidash di Galar? Sulla base che io conosco a Rapidash e mi vuole bene e non è Rapidash Uh, bello Calyrex Calyrex Alternativo Dove sono le sleeve qua? 189 188 Prima che i collezionisti mi vengano a prendere a casa Uh, Katlina io Hai trovato una persona Oh, miseria Katlina Hai trovato una persona che ha sonno Ehm Eh Questa Somiglia un po' a Sandy questa qua Pfff Va bene Ecco Luca Arriva Luca e Sergi No Tornadus Ma eeeh Sta bustina Cosa? Dobbiamo aprirla Perché? Perché sai già che è vuota Non è vero Non è vero Può essere fuori Davide devi credere ai miracoli Credici Ragazzi scommesse in chat Su quante probabilità ci siano che sia vuota Credici Credi nei miracoli Ricordati se lo dice la Clerici credici Clerici Cosa? Aspetta È uscita Aspetta che vado a picchiarlo No mi dissolto Mi dissolto Mi dissolto Oh 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 signori Ma allora ragazzi Il pool medio dei box è 7 O 7 O 8 O 9 Che generoso Abbiamo beccato 3 box da 9 Quante cacchi di fare vita c'erano? Che c'è? Te l'avevo detto porco 2 Potevi anche dirle al microfono Perché non devi bestemmiare Esattamente Ma che non mi incazza eh Madonna quanto gratta 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 Ragazzi Ragazzi tra poco apriamo duello sovraccarico direi Che succede? Ah ok a posto Non commento Ho capito Proprio c'è questa Questa bustina proprio mi odia Snorant Yamask di Galar Lediba Allora Attenzione E' psico E' psico E' psico E' psico E' psico E' psico Può essere rapida E' psico Ma nooo Si Si è vero e' psico E' vero si Si Anche quell'alternativo Si Yes Spizza vediamolo qui Perchè è folletto No è perché è psico Si si è rapida Sicuro E' rapida Cioè quindi mi stai dicendo che ho trovato due alternative attivate nello stesso box E' già E' quel box non era di mia proprietà E' già E' molto grave sta cosa Ragazzi se comprate il box vedete che poi vi apriamo tutte queste figate Se qualcuno vuole approfittare E' E' Attenzione Attenzione Le best card ever Perchè non ho la cintura quando mi serve The best card ever signori The best card ever No allora calmati No 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 Però c'è clubopus Guarda che bello clubopus Guarda quanto è bello qui si indica là Eeeee Eeeee E' quel baffo E' il baffo che ti compre No è il cilindro palesemente Che fa tutto Anche il cilindro Anche il cilindro che in realtà è una ciminiera che in realtà è un cilindro che in realtà è una cannuccia Potrebbe anche essere una critica sociale agli inglesi perchè gli danno dei fumatori a modi cimini Potrebbe essere Non ci hanno pensato In epoca di politica di Corep Gratta Tocca Che ci dobbiamo fare ragazzi Quando due persone si incontrano in un posto per sbustare Gratta E' particolare la questione Ma abbiamo visto che è una cosa molto particolare Quindi allora Essendo che la mia gratta No no gratta gratta Ok perfetto Allora Vediamo un po' In case Oble Heracross Poricons Energia Erba Rabut Cimitero antico Cimitero antico Cimitero antico Ok a posto Oh guarda che bella Quillfish Allora Mira Eh Si Non è fuori serio Sta a vedere che è sandaconda Oh Oh beh Mi piacerebbe Sta diventando uno dei miei po' con preferiti Con queste sbustate Porca miseria Eeeh Proprio Oh Zero ora v full art Zero ora v full art Ma che bello Non l'avevo ancora trovato questo Ho ciò che io ho dell'acqua Ragazzi Si Nooo Ma lui li ha tolti beh Com'è possibile Nooo Com'è possibile Che è successo? Che è esplosso? 167 di 198 Cos'è? De 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 A Mi Allora signori Signori Non ho la cintura oggi perchè l'ho dimenticata a casa Che figo Zero ora v Ma si che figo Zero ora v Tu non l'hai visto come l'acqua perchè Non ho s... Abbiamo sbessuto forse un piano troppo E sei visto Eeeh Hai idea che sono diminuiti like no? Adesso devo Io in quanto campione Devo dargli un motivo per rialzare gli ascolti Perchè sennò c'è un problema Oh Eh? Uh? Uh? Ah? Vedi? Ci sono delle fiammine che non sono male Eh? Ragazzi Chiamate gli amici Vedi che siamo tornati a venti? Eh vedi Ragazzi chiamate gli amici perchè Eeeh Ho già capito vengo qua Prepara la sleeve Mi sentirete luminare Eeeh Allora io non esulterò più di tanto perchè non la venderò io Penso che chi la venderà esulterà abbastanza perchè 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 la vendiamo Penso di si Sei porzito E che cosa fa la tenere di bellezza Assolutamente si Non ci serve Vi fai un quadretto Si Non stai più in negozio La mandiamo a gradare Si la mandiamo a gradare Si oltre a quello Una volta gradata la vendi No la tenere di lei come intolo Esatto Come intolo Signori L'uomo dell'alternative art Vi ha appena trovato Ragazzi Guardate Mamma mia Quanto Slippala subito Guardatelo Tutti i box scassati Porca miseria Tutti i box con colpi o ammagature E non ve li vendiamo pensate un po' Porco 2 E ne stai occhio perchè qua potrebbe rifare La cannonata Allora Partiamo dal presupposto Ok Spizzichiamo un pochino Cos'è? Cos'è? E' la 113 Che numero è? 113 No ne ho detto Stavo pensando che numero potrebbe essere Cos'è? E' una VMAX Che cazzo è? Che cazzo è? Cos'è? Cos'è? E' acciaio E' metagross E' acciaio? E' acciaio Ah si E' metagross E' che cazzo è la VMAX che c'è? Era un po' che non veniva fuori Si Vabbè Grazie metagross Tandegar e cose Tandegar e cose E' un pochino base Ed è normale E abbiamo già capito chi è Il dubbio è In che versione è? Maia Non so Maia Non c'è anche Blissey qua Blissey? C'è Blissey? Gli Menni Mi Poi se c'è anche terrissicolata ات Right Wow Con wiece con solo 218 di vita Ho molti dubbi Signori Vi lascio solo intendere e volere Magari adesso non è niente Ma, dal mio ricordo E ne ho trovato un altro Ce ne ero mai Ragazzi ho trovato 4 alternative In 3 box io Cioè non so cosa volevate di più Dalla vita Ricordati la cosa principale Non erano tu i box Eh vabbè Mi sa che quando Davide O apri i box per il cam Oppure non apri il suo box Per questo è il mio box Vi faccio aprire ad altri Dovresti provare a farmi aprire un buon cam Eh proveremo dai Faccio un recap di quello che avete sbustato fino ad adesso C'è bisogno di farlo Sì, flexate Immagina di essere Bado Via 1 e 2 Tanto mostro Justo quelle cose più interessanti mie Quelle due Quelle due poke che hai trovato Esatto Io ho trovato Metagross Guarda che bello che è Metagross Guarda che forte che è Prego Vada Io ho trovato Metagross Passo io un po' di plastica Eh ho trovato Ho trovato Dov'è? Dov'è? Ho trovato Il Slokin Vmax E ho trovato Il Zeraora Vfulard Vfulard Eh no Ma questo è un po' di flexare come Davide Chi flexa? Flexing Davide Hai imparato da Bado il migliore Ma chi gli ha dato il nome? Chi ha inventato l'hashtag? Infatti Beh però ragazzi quando una persona riesce a trovare 5 alternative art in una sola serata Di non fare un danno di quelli apocalittici Non ne ho la minima idea Anche perché è bollente e non riuscirei mai a berlo al volo Eh beh Lì rischi di danneggiare o le carte o il tuo telefono o il power bank Però in teoria le prime cose danneggiate sono il power bank e il telefono Ho tutte le cose insieme Facile questo gioco Io ho ancora una bella mazza Neanche io eh Solo una holo adesso Non sbaglio Kakuna e Rillaboom Non so anch'io trovo qualcosa Perché qua se no ora Gratticchia Sì Io non ho un paio Kaiser di niente Eh sì che gratta Guarda qua Bidrill e SSBike Tanto se c'è Hunter è per forza una bella buffina Eh 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 Se è vero Veccio Allora È Psycho È la 172-198 Pazzo Eh quindi una full art Ammetti un po' più al centro Non può essere un'altra alternative Sì è un'altra rapida No dai Un'altra rapida Scusa dov'è? Sì 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 è un'altra rapida A occhio Sì 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 Guarda guarda Wow bello però Bello? Beh scusa era psico e tutto Sembrava in un bosco È alternative Mi basta avanza E siamo a 6 Non è normale Cioè è pazzesco Davide è over the top Li facciamo aprire tutto qua eh Attenzione In consulto come sbustatore ufficiale Sbustatore ufficiale E sottolineerà che non sono bustine sue Così trova le carte dentro Esatto Anche io un teleon Io non ho ancora finito il mio Ah mi scusi Lei è troppo potente Mi fa paura Stasera veramente Rompio di te in risposta Stasera veramente Stasera veramente Non sono credibile Pare che lo reincollate Le ho aperte e reincollate Sì io vorrei dire Non ho sbustato solo un lippard Cioè ve lo dico Voglio vedere la faccia di Alexino Quando gli mostro cosa ho aperto Sì Uh un sale bivio E Alexino Uh Va abbastanza bene Oh yes Cioè ragazzi è pazzesco Cioè Davide oggi è over the moon Aspetta aspetta che gli do una bella leccata Così la sminta Anche dalla bustina In realtà no così L'ho fatto guadagnare 20% del suo valore Oh qui c'è un'altra via ragazzi Sì sì È una bella via Max Ma per veramente Oscurità No Non è moltre No no lo so che non è È slowking ma È alternative È alternative No È lui No Normale Oh cacchio In un cosa Non è fuori tutte Alexino non ero io Non poteva essere alternative A quanto pare A quanto pare stasera è così Maledetto Vediamo se Vediamo se Vediamo se Vediamo se Vediamo se Un'altra Un'altra Svettila Un'altra Sveviva Io trovo Froslass Magari Una VMAX Normale Grazie a battaglia Vabbè questa guarda Ve la faccio vedere così No vabbè scherzando No poi Niente Allora Ti ho trollato Qua c'è E' psico L'anima della festa E' psico E' un altro Un altro Cavaliere glaciale Potrebbe essere Anticuno Anche No 172 E' sempre Cavaliere glaciale Vediamo vedere 168 203 E' spettrato E' lui E' lui E' lui Signori sono sette Abbiamo capito che il primo a destra Exino Un caffè a G6 Grazie E' bisogno di E' qua Si carica di Ma faglielo lungo No? Si faglielo Tazza intera Si Comunque c'è qualcosa Che non mi va No no Siamo L'altra volta Fruntuali Quando l'altra volta Tipo E' boh Vabbè Quando 8 R geologi Che fa Ragazzi Vi accompagno Perché Purtroppo Io Davide ritorna Alla sua posizione Ma E' per mia incompetenza tecnica Purtroppo Devo Assettate che vi metto in Full cam In full cam Ragazzi Purtroppo Per mia Incompetenza tecnica Non posso Lasciarvi qua Davide Fino a fine Live No E' più che mia Oltre le tue competenze Dov'è la regia Eh Va toccando a Yugi Probabile La regia Qua ha detto Vediamo appena finisce il torneo Vengo giù Neanch'io Comunque Lasciamo perdere Imparerò anche io Come chiudere le live Così la prossima volta Vi lasceremo Davide Fino a fine live Ragazzi Che dire Nel complesso E' andata davvero bene Cioè Avete visto Cosa ha aperto Davide Vergognoso Potevi dire il contrario Per caso Stasera Oggi Oggi Si poteva dire Tutto tranne Che fosse andata male No Sono davvero geloso E Io Io non commento Io adesso sto slivando Tutte le carte Chi è che voleva Vip di Minecraft Io voglio Posso fare una foto Dopo Alle sette sorelle Puoi fare la foto Anche al mio pipo Per quel che ti riguarda Wow Le faccio proprio così Fa per tipo Bentaglietto Assolutamente si Bene ragazzi Se volete acquistare qualcosa Vi ricordo Il nostro webshop Thekingofgames.eu Che trovate in descrizione Di sotto Non è sotto Io non vi assicuro Che sia in descrizione Di video Altrimenti C'è anche il blog Thekingofgames.it Dove potete Chiaramente Leggere tutte le news Riguardanti Il mondo Dei giochi di carte Collezionabili E con particolare focus Su Yu-Gi Ovviamente Esatto E mi raccomando Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Delle avvisi Per rimanere sempre aggiornati Su tutti i nostri video Non solo di Pokemon Ma anche di Yu-Gi-Oh Dragon Ball Vanguard Eccetera Altre Praticamente Tutte le settimane Facciamo una live Salvo Imprevisti Imprevisti Ma ultimamente Non ne abbiamo avuti Quindi vabbè Comunque vi avvisiamo Se una live non c'è Vi avvisiamo Non vi preoccupate Si Qualcosina si Non garantiamo tantissima roba Comunque se Hai qualcosa in particolare Basta che ci scrivi Sul nostro Webshop Nella lista Carte singole Ci specifichi Che vuoi le ghost E vediamo Che cosa abbiamo Esattamente Ragazzi Grazie per averci seguito Siete stati tanti Anche oggi E grazie anche Da Davide Che è in regia E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Alexino Ciao Lachino Ciao ragazzi Ciao No Così Quindi devo chiudere così Se il video ti è piaciuto E vuoi diventare Un bravo duellante Dacci un like Condividi E iscriviti al canale Siamo anche su Facebook The King of Games Il re dei giochi Dacci un like